. Enrico Papi pronto per Gues Miage, il video su Instagram Gues Miage con Enrico Papi, domani la prima puntata del quiz. Enrico Papi è pronto a ritornare in tv domani sera su TV8 con i nuovo quiz Gues Miage e indovina l'età. . Il conduttore di Sarabanda ha caricato infatti pochi minuti fa sui suoi social un video in cui ha mostrato ai suoi fan le ultime prove che sono state fatte in studio prima del grande inizio, l'appuntamento è per domani sera, intorno alle 20.30 circa. . Il format del programma è molto semplice, la coppia di concorrenti dovrà infatti difendere il monte premio iniziale che ammonta a ben 100.000 euro, indovinando l'età esatta dei sette concorrenti. . . . . . . . . Enrico Papi si prepara per Gues Miage, il video delle prove sul social. . . In Gues Miage con Enrico Papi i concorrenti devono semplicemente indovinare l'età di sei sconosciuti, la differenza di età tra quella effettiva dei sei ospiti e quella affermata dai concorrenti farò calare il monte premio iniziale. . Infine, durante l'ultimo round i giocatori dovranno indovinare l'età di un settimo personaggio misterioso, avendo a disposizione solo quattro indizi e con il pericolo di vedersi dimezzare i soldi accumulati fino ad allora. . . . . . . . .